Il politico potrà svolgere attività di volontariato per una soggezione regina. Dovrà rientrare in cella all'ora di pranzo e rimanervi sino alla mattina successiva. Ma è un primo passo verso la libertà, dopo la condanna a 4 anni e 7 mesi per il caso Fallara. Potrà uscire dal carcere ogni mattina per lavorare all'esterno l'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. L'istanza presentata al suo legale Aldo Labate è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, così come previsto dall'ordinamento penitenziario. Già l'altra mattina l'ex presidente della Giunta regionale ha potuto lasciare il carcere di Arghillà, dove si trova rinchiuso dall'aprile scorso per la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione, rimediata al termine del processo per il cosiddetto caso Fallara. Scopelliti andrà a svolgere attività di volontariato all'associazione Nuova Solidarietà, con sede a Salice. Il suo sarà un ruolo di tipo tecnico-amministrativo e lo terrà impegnato per alcune ore al mattino, con la limitazione di dover rientrare nel penitenziario all'ora di pranzo, per poi rimanervi tutto il resto della giornata. Si tratta di un primo piccolo passo verso la libertà per l'ex sindaco di Reggio Calabria. Con il passare dei mesi poi potrà essere avanzata una ulteriore richiesta per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Un percorso che sembra ben avviato anche in considerazione della condotta tenuta dall'ex governatore, che, a detta di chi ha potuto notare da vicino la sua detenzione, ha svolto numerose attività all'interno del carcere nel solco di quell'obiettivo di rieducazione del condannato contenuto all'interno della nostra carta costituzionale.